Ha tirato una bomba e forse è il tiro più forte della mia vita, come hai tirato così forte in vita mia? Oggi Mantova è incredibile, so quante palle e gol abbiamo avuto, almeno sulle 15, sbaglio? Confermatemi, confermato, 10, vada per 10. No, siamo contenti perché finalmente abbiamo giocato come sapevamo e abbiamo portato a casa il risultato come era giusto che fosse. Tanta qualità c'è dentro il campo, si è visto anche come Tasso Tecnico, si conosce, te, Caridi, Tarano, altri giocatori, qualcosina, anche da un punto di vista psicologico, sicuramente la partita di Torino ha fatto sé, però lì davanti si è visto tanto movimento. Ma la partita di Torino ha dato consapevolezza a questa squadra, però io torno a quello che avevo detto un paio di settimane fa, non avevamo mai avuto l'occasione di giocare tutti insieme, tutti insieme nel senso di stare bene e di essere a disposizione. Oggi lo eravamo e non è stato un caso sicuramente che il Mantova abbia fatto questa gara. Buona domanda.